Siamo preparati un progetto speciale per Vera Ferragni. È una roba tutta un tulle brodé. Ha questa roba domani. Ciao, buon bebé. Non sapevo che fossi collegata tutto il tempo, ma bellissima. Ti faccio perfetta. Ma sarò sempre perfetta, figurati. Settimana prossima avremo due premiere della mia reality show Ferragniets e come in tutte le occasioni importanti ho chiesto a Maria Grazia se potesse disegnare degli abiti meravigliosi per queste due occasioni. Dicevamo forse togliamo degli strati così per renderlo un po' più trasparente. Mi piaceva che fosse un abito molto scintillante. Quindi Maria Grazia ha consigliato questa elaborazione proprio con nette tutte le perline. Fa un effetto completamente diverso. Adoravo il colore smeraldo. Era proprio il primo colore che ho chiesto a Maria Grazia. è sinonimo di speranza e di buona fortuna.